In questo video andremo a vedere come ottenere Amazon Music gratis per tre mesi. Prima di iniziare però non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportarmi e a valutare di iscriverti anche al canale. Ti faccio vedere che se noi andiamo all'interno di music.amazon.it slash home ovvero il sito ufficiale ci ritroveremo su questa schermata e potremo andare a non fare altro che accedere. Quindi se anche ci andremo a registrare andremo a pagare Amazon Music. Per non pagarlo invece se andiamo sotto il link che troviamo qua sotto il mio video in descrizione quindi qua sotto in descrizione al video c'è un link che se lo clicchi finirai su questa pagina. Qui avrai tre mesi di uso gratuito. Aspetta continua a guardare il video e non fermarti qui adesso che ti ho dato il link perché scaduti questi tre mesi dovremo andare a disdire l'abbonamento in modo da non pagare assolutamente nulla. Se clicchiamo su inizia ora ci farà accedere con il nostro account di Amazon o ce ne farà creare uno nel caso noi non l'abbiamo ancora. Una volta registrato potrai entrare tranquillamente all'interno di Amazon Music e iniziare ad ascoltare le tue canzoni preferite. Ora per disdire l'abbonamento ad Amazon Prime Music basterà andare qui in alto a destra dopo la barra di ricerca di Amazon andare alla voce il mio account Prime Qui vediamo la data di rinnovo e qualche giorno prima dovremo andare qui su gestisci iscrizione e l'andremo a cancellare. Quindi cliccheremo su termina l'iscrizione e clicchiamo su termina i miei benefici. Clicchiamo su cancella iscrizione e clicchiamo ancora su cancella. Ci dispiace che te ne sia andato infatti in questo caso l'avremo disattivato. Quindi facendo così siamo in grado di ottenere Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi senza andare a pagare. Non preoccuparti se ti chiede la carta di credito perché appunto andrai a pagare solo quando finiscono i tre mesi e se andiamo in quella schermata lì possiamo disdirlo prima. Spero che il video ti sia stato d'aiuto trovi il link qui sotto al video in descrizione. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!